sosta per le nazionali fa rima con calcio mercato inter si ferma il campionato e ovviamente ripartono le notizie le voci di mercato in particolar modo però attorno all'inter e attorno all'attacco dell'inter perché sono stati accostati diversi nomi più o meno concreti eh e fattibili da tenere d'occhio per l'inter in vista del mercato di gennaio voglio fare insieme a voi quindi una serie di riflessioni sull'attacco dell'inter commentare queste notizie di mercato che sono emerse ma prima di tutto una domanda secondo voi serve un attaccante da aggiungere al reparto offensivo dell'inter durante il mercato di gennaio oppure no bisogna prendere un attaccante o no a gennaio aspetto i commenti qui sotto adesso vi dico la mia prima però innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio vi chiedo un mi piace se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale click sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e tra poco dobbiamo annunciare anche una novità quindi mi raccomando subito click sul tasto iscriviti parliamo dell'attacco dell'inter dove l'infortunio di marco arnautovic ha ovviamente creato delle difficoltà simone inzaghi nel poter gestire le rotazioni in attacco per fortuna sembra che l'attaccante austriaco possa rientrare un po' prima del previsto ovvero ad inizio novembre indicativamente fatto sta però ovviamente che si sono già create delle difficoltà che erano prevedibili e per il momento sia lui che sanchez ovvero gli attaccanti di scorta non hanno ancora segnato nemmeno un gol per questo motivo è soprattutto la gazzetta dello sport devo dire ma non solo che sta spingendo molto sul fatto che l'inter a gennaio potrebbe prendere in considerazione delle opportunità dal mercato appunto per l'attacco tenderei a scartare i primi due o tre nomi molto in rampa di lancio ghirassi in germania santiago i menes in olanda del feienord kerstovic del lecce sono tutti partiti molto forti in questa stagione soprattutto ghirassi soprattutto i menes e sono dei profili difficili da spostare a gennaio senza sbossare veramente tanti soldi quindi la vedo un po' complessa sono diversi invece altre situazioni da tenere magari d'occhio come meditaremi attaccante esperto del porto che inter e milano hanno già cercato la scorsa estate è in scadenza di contratto con il porto non ancora rinnovato quindi può andarsene a parametro zero la prossima stagione potrebbe rappresentare un'opportunità alla ericsson mettiamola così ovvero un colpo che si può tentare di anticipare di anticipare a gennaio con un esborso magari inferiore sul cartellino per non rischiare poi l'asta a parametro zero di avere un giocatore immediatamente a disposizione ma c'è da ricordare che daremi arriverebbe innanzitutto dall'estero in una da un altro campionato da gennaio a febbraio poi è impegnato molto probabilmente quasi certamente in coppa d'asia e al rientro è logico magari aspettarsi una che potrebbe aver bisogno ecco anche di un attimo per adattarsi è un contro non da poco se si sta cercando un giocatore dall'impatto tecnico immediato c'è un altro profilo diverso che è quello di armando broca 22 anni del celsi potenzialmente potrebbe essere prestato quindi è una buona occasione ma anche qui è un giocatore abbastanza giovane e sta rientrando soprattutto da un infortunio grave al ginocchio mi chiedo se l'inter è il posto giusto per far rilanciare un giocatore così e da cui l'inter può avere un impatto immediato aggiungo poi io un terzo nome che è già di proprietà dell'inter c'è un sebastiano esposito che nella samp adesso sta cominciando un pochino a venire fuori nelle ultime due o tre partite ma per ora la stagione della squadra è abbastanza disastrosa e se deve rimanere a fare difficoltà in serie b magari tanto vale riportarlo all'inter e utilizzarlo come quinta punta visto che può essere utile anche per le liste uefa per esempio sarebbe un'operazione che può avere un senso anche se esposito si era già visto in prima squadra con antonio conte ha avuto qualche difficoltà poi ad imporsi a bari stava emergendo poi hanno fallito la promozione in serie a comunque un che deve ancora compiere il salto e questi sono un po' i nomi che attualmente a meno che non ne emergano altre opportunità strada facendo vengono accostati all'inter vi metto sul tavolo però alcune riflessioni per arrivare insieme ad una conclusione l'inter è in questo momento il miglior attacco della serie a si parla citavo prima del fatto che sanchez e arnato che ci non hanno ancora segnato va anche detto che però insieme per ora hanno giocato trecentotredici minuti in totale quindi anche questo andrebbe sottolineato ma l'inter al miglior attacco della serie a ha segnato in tutte le partite giocate fino a qui le prime dieci tra campionato e champions e devo dire che la polemica sul reparto d'attacco dell'inter si è aperta soprattutto dopo un due a due con il bologna dove è vero che al bologna mancavano dei difensori ma comunque l'inter ha segnato due gol a quella che era fino a quel momento la seconda miglior difesa d'europa come fase difensiva complessiva per numero di gol subiti e lo ha fatto segnando un gol con un difensore un altro con un colpo da fuori area di lautaro martinez nelle altre gare precedenti avevano già segnato centrocampisti esterni giocate del singolo eccetera eccetera quindi la varietà e la quantità di gol per ora all'inter non è mancata almeno a mio avviso un'altra riflessione poi è che se guardo alle concorrenti tendenzialmente tutti hanno un ricambio per ciascun ruolo se guardo in particolare a chi gioca con due attaccanti davanti la juventus ha quattro attaccanti più dei giocatori che possono essere adattati la roma ne ha cinque ma uno ebram che è rotto e starà fermo ancora per un po' e quindi per forza ne hanno preso uno in più già dal inizio l'atalanta ne ha tre più lucman e in emergenza adatta anche o cambia anche assetto l'anno dello scudetto anche tra l'altro se vogliamo citarlo l'inter aveva lautaro lucacus sanchez e pinamonti come quarta punta quello che voglio dire che la copertura a livello numerico più o meno è quella un po' ovunque poi in emergenza magari si procede con degli adattamenti o delle nuove soluzioni di modulo cosa che l'inter per esempio può fare con classian con michitarian all'occorrenza o in soluzioni estreme addirittura quadrado o frattesime si sottopunta per dire il tema vero più che altro secondo me in casa inter è legato all'affidabilità fisica delle alternative ai titolari e quello è un dubbio che non diventa la non è la novità di oggi cioè ne avevamo già parlato in estate e lo sapevamo il punto qui è che il mercato si è chiuso un mese fa aver già cambiato idea sugli investimenti che hai fatto un mese fa non sarebbe un gran segnale a livello progettuale e di scelte a meno che a meno che metto sul tavolo questa ipotesi non ci sia dietro una strategia ovvero delle operazioni fatte in estate per tamponare la prima parte di stagione e poi magari rimandare a gennaio un altro investimento aggiuntivo magari avendo già archiviato dei risultati sportivi che ti danno degli introiti in più cosa che per me avrebbe senso però solo se poi effettivamente vai a prendere un giocatore che ti dà un impatto subito e poi magari ti sostituisce anche sanchez in vista della nuova stagione della prossima stagione ma durante il mercato di gennaio individuare un colpo così non mi sembra una cosa molto semplice da fare dall'altro lato prendere un giocatore tanto per prenderlo e dire di averne uno in più non ne vedo troppo il senso e penso che caisedo abbia insegnato qualcosina e poi ci sono anche i problemi di liste e di budget da tenere in considerazione così quindi è un po' come la penso io la speranza ovviamente è che sanchez stia entrando in forma ora dopo aver vissuto un'estate da svincolato e i vari problemi al rientro e quindi possa diventare un pochino meno fumoso in una squadra che ha comunque una grande produzione offensiva così come arnautovic che di problemi muscolari vedo tanti dicono un giocatore sempre rotto in realtà di problemi muscolari ne aveva avuti alcuni due anni fa saltando cinque o sei partite in totale l'anno scorso in realtà gli infortuni hanno stati traumatici distorsioni botte e anche un po' di turbolenze con l'allenatore quindi si può ragionevolmente pensare o sperare almeno che si metterà alle spalle questo infortunio e ripartirà molto dipende ovviamente da loro due molto dipende però anche da inzaghi secondo me che dovrà dare più fiducia alle soluzioni alternative per non spremere otaro martinez e turam che ovviamente sono due livelli sopra rispetto ai sostituti e penso che siamo più o meno tutti d'accordo fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi allora nei commenti poi leggeremo in diretta alle 19 e 30 vi invito quindi a scrivermi eventualmente anche su chi puntereste voi se avete un nome preferito vi ricordo di fare un salto su passion inter punto club se volete entrare a far parte della nostra community www.passion inter punto club per sostenere il nostro progetto e discutere di inter con noi 24 ore su 24 in descrizione vi lascio anche un approfondimento da recuperare per chi ci ascolta in podcast link in descrizione per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui ciao ciao Grazie a tutti.